Due volte campione olimpico e sette volte campione del mondo presiede a pieno titolo la Federca Nottaggio. Parliamo ovviamente di Giuseppe Abagnale, che sabato scorso è stato ospite del Circolo della Vela di Bari. La Puglia ha un'ottima tradizione a società storiche e un movimento molto vivace. Il nostro obiettivo è essere presenti sul territorio per seguire le eccellenze che possono portare energia alla federazione, ha dichiarato Abagnale, la cui presenza a Bari è stata fortemente voluta da Lucilla Agliotti, atleta para Rowin barese, vincitrice della medaglia d'argento ai campionati del mondo di Corea dell'agosto scorso. La Agliotti, tesserata con il Circolo Aniene di Roma, è figlia di uno dei soci del Circolo della Vela di Bari. Sui pontidi e nei saloni del Circolo, Giuseppe Abagnale ha chiacchierato con i soci di sport e dei suoi traguardi alla presenza della Presidente Simonetta Lorusso e del Consiglio Direttivo. Nel pomeriggio poi il campione è stato a Brindisi, città europea dello sport 2014, per assistere ai campionati italiani indoor rowing che si sono ottenuti nel weekend.